Il nome è indimenticabile ed è quello del maestro Nello Segurini. Grazie. Io non voglio spiegare grandi chiacchiere, insomma, per venire qua vuol dire che il maestro Segurini è stato importante per la storia della canzone italiana. Elenchiamo qualche successo. Beh, all'orchestra Armonia, prima all'orchestra della canzone, quindi sono i miei trascorsi e naturalmente dopo un certo periodo di routine ho lasciato per passare a quello che mi era più congeniale. Io dirigo opere, dirigo concerti sinfonici, ho diretto in tutto il mondo, però questa è una serata talmente particolare per cui mi sento onorato di ritrovare i miei amici, i cantanti, le mie orchestre. Io la accompagno. Felice, grazie. Niente, siamo onorati noi di averli, anche se sembrano parole banali, ma in realtà è proprio così. E il maestro Segurini ha preparato un piccolo putpuri delle sue canzoni più famose. Prego maestro. Grazie. 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 Grazie.